Dopo la vittoria di Firenze abbiamo aspettato di più contro Caleri e non siamo riusciti. Purtroppo abbiamo avuto le nostre occasioni nel secondo tempo ma non le abbiamo fatte volute. Quanto mancava oggi Hernanes in mezzo al campo per te che sei in mezzo? Ma no, ora non voglio parlare perché anche lì che ha giocato, io penso che lui ha giocato anche bene perché stava due o tre settimane fuori. Sì, come si dice, sappiamo tutti che Hernanes è un giocatore forte e sicuramente può dare un male. Che idea ti sei fatto sul calcio di rigore? Difficile perché io penso che Gesù non vede la palla, va su mano e non fa un posto. L'arbitro è deciso così e non si può fare niente ma per me non lo so, non sono sicuro che sia stato il gioco. Cosa ha detto il mister a fine gara? Ma niente, siamo tutti tristi se lo sappiamo da solo che mancano due punti oggi e questi sono due punti in questo. C'è un po' di rammarico in più perché c'era il presidente Toyer che è venuto a vedervi e forse c'è anche un po' di pressione quando viene a vedervi, non riuscite mai a fare la partita? No, io non credo che i giocatori pensino così, i giocatori vogliono vincere la gara e noi vogliamo vincere oggi ma non siamo riusciti. Ma io dico che abbiamo avuto le nostre occasioni e di là di crescere di più.